E' il saluto che noi frati di questa basilica, nella quale sono custodite le spoglie mortali di Francesco, desideriamo rivolgere a voi. Il Signore vi dia pace. San Francesco amava chiamare tutti e ciascuno fratello e sorella. Penso allora che non vi sia un luogo più appropriato di questo per iniziare il G7 Inclusione e Disabilità, in cui vogliamo insieme riaffermare che ogni uomo e ogni donna, ogni fratello e ogni sorella deve poter realizzare pienamente la propria unicità e vedere riconosciuta la propria dignità di persona.